Va bene, onorevole Baldino, infatti era da lei che voleva arrivare su questo perché per l'appunto se noi andiamo e dobbiamo dimostrare che siamo inappuntabili in cambio di aiuti Allora, intanto bisogna dire che questa non è una normale visita del Premier Italiano a Washington ma è una visita sicuramente istituzionale programmata da tempo però siamo in un contesto di guerra chiaramente e quindi non mi sembra una richiesta strusa e lunare quella di chiedere al Premier di raccogliere quantomeno un indirizzo del Parlamento Italiano, dell'organo rappresentativo dei cittadini rispetto all'atteggiamento che l'Italia terrà non soltanto nella visita a Washington ma anche nella visita a Kiev programmata da Draghi Oggi noi abbiamo detto che è la giornata della vittoria per i russi no ma per l'Europa è una giornata importante perché è la festa dell'Europa è l'anniversario della dichiarazione di Schumann e la dichiarazione di Schumann del 1950 si apriva con una frase celeberrima che io oggi voglio ricordare cioè la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con degli sforzi creativi proporzionati ai pericoli che la minacciano ecco l'Europa deve fare anche oggi dopo 72 anni uno sforzo creativo proporzionato al pericolo che la minaccia a me non sembra che l'Europa stia facendo questo sforzo creativo tendente alla pace e non mi sembra nemmeno che però quindi sarà d'accordo anche lei che dire semplicemente fate pace fate pace non è tanto creativo esattamente può diventarsi qualcos'altro è chiaro credo che la pace sia nelle intenzioni di tutti però chiaramente poi bisogna mettere in campo tutti gli sforzi necessari da parte della comunità internazionale e soprattutto da parte dell'Europa proprio visto che oggi si celebra la giornata anche dell'Europa per arrivare ad un tavolo di negoziato ad un in qualche modo ad un tavolo di conciliazione ma questo non lo dice il Movimento 5 Stelle o Giuseppe Conte o Vittoria Baldino l'ha detto anche il Presidente Mattarella nel corso di un discorso lo può dire chiunque importantissimo di rinnovare lo spirito di Helsinki la risposta dell'aggressore sfilo sulla piazza rossa la prima cosa che ti faccio vedere e non lo dico io è nella lista insomma sono i due missili atomici insomma no diciamo che non c'è questa grande predisposizione nella politica i simboli sono importanti tanto più durante in periodi di guerra Putin vive di simboli vive di memoria oggi per la Russia si celebra una giornata importante che celebrano ogni anno però questo non deve portare la comunità internazionale a disattendere un impegno che tutti i cittadini europei stanno chiedendo questo siamo d'accordo io non vedo questi sforzi dottoressa io questi sforzi non li sto vedendo ho capito ho capito però la domanda iniziale anche la risultante del Giuseppe Villier la maggioranza comunque che garantisce a Draghi che va a Washington e che deve dire sì noi siamo il vostro alleato più fedele in cambio ci date il gas a prezzi accettabili in modo che quest'inverno non moriamo di freddo resta ma guardi ma qui nessuno sta minacciando il governo la tenuta della maggioranza Draghi rinnoviamo la fiducia nel Premier però è chiaro che anche da parte sua dovrebbe esserci un'apertura nei confronti della forza di maggioranza relativa del Parlamento questa apertura io ho visto che purtroppo non c'è stata e che cosa lei intende per apertura? che cosa vorrebbe? intanto rispondere all'appello della forza del Movimento 5 Stelle che non è stato isolato di venire in Parlamento a raccogliere un indirizzo politico cosa che non ha fatto e io non oso immaginare a parte il vertito le parole di Di Maio ieri che ha detto che comunque le armi non devono essere in grado di colpire solo russo lei le vede come un ricompattamento quindi anche del Movimento? ma non c'è neanche bisogno di un ricompattamento credo che quello che ha detto Di Maio sia sacrosanto ed è quello che diciamo da tempo e non siamo gli unici a dirlo chiaramente noi non ci siamo opposti all'invio di aiuti anche militari all'Ucraina non ci sottrarremo se ci sarà richiesto nuovamente perché riteniamo che se si può parlare di negoziati è perché l'Ucraina fino ad ora ha resistito oggi siamo forse al 75esimo giorno di guerra e senza un aiuto da parte dell'Occidente l'Ucraina sicuramente non ce l'avrebbe fatta quindi su questo punto il Movimento 5 Stelle è sempre stato molto chiaro Draghi ha detto Erdogan è un dittatore dopodiché ci ha fatto gli affari quindi è una questione di scelte su questo non c'è dubbio visto che sono aperta sul giornale Baldino invece a lei volevo chiedere conto di quest'altra intervista rilasciata dal sottosegretario agli esteri Benedetto della Vedova perché dice Conte è il responsabile sulle armi su questo non si fa campagna elettorale quindi in dei rubri che insomma sostanzialmente la polemica sulle armi ha una questione di campagna elettorale ma come se non ci fossero contenuti esatto no ma è come se non ci fossero contenuti quando una forza politica cerca di imporre di dare un proprio neanche di imporre di dare un proprio contributo a un dibattito politico sacrosanto a un dibattito pubblico si taccia di responsabilità e la si accusa di voler far cadere il governo in realtà non è così altrimenti la politica e i partiti che cosa ci stanno a fare in questo momento allora chiudiamo il Parlamento andiamo in vacanza anticipata lasciamo che faccia tutto il governo che peraltro però si legge sulla fiducia di una maggioranza parlamentare quindi io respingo francamente al mittente queste accuse perché denotano una scarsa non c'è una voglia di posizionamento ma denotano una scarsa comprensione dei temi posti dal Movimento 5 Stelle anche perché noi lo ricordava anche Bekis non ci siamo sottratti quando è stato il momento di votare il primo marzo il decreto che consentiva l'invio di aiuti militari all'Ucraina e come abbiamo già detto non ci sottrarremo nel caso in cui ci fosse chiesto noi abbiamo posto un tema un tema che si sta però forse questa cosa non viene del tutto compresa nel senso che lei giustamente dice noi non ci siamo sottratti ma non viene compresa da chi non vuole comprenderla ma i cittadini italiani l'hanno compresa benissimo sì però appunto ce la spieghi meglio anche lei nel senso che quindi per arrivare a dove dove dovrebbe portare un eventuale intervento un eventuale voto un eventuale discussione a mettere a punto che cosa a decidere che cosa è quello che avremmo chiesto anche a Draghi se fosse venuto in aula a riferire cioè qual è l'atteggiamento dell'Italia dove vogliamo andare qual è l'obiettivo che l'Italia insieme all'Europa deve porsi in questa fase del conflitto è una domanda legittima oppure no questa noi riteniamo che sia una domanda assolutamente legittima qual è l'atteggiamento proprio per evitare ma immagino che abbiate anche una vostra risposta però o no certamente noi diamo un contributo noi cerchiamo di dare un contributo al dibattito e diciamo vogliamo farci promotori di quello sforzo creativo di cui parlavamo prima per evitare di arrivare al punto in cui paraprasando il cancelliere Olme della prima guerra mondiale il sasso ha cominciato a rotolare quindi la guerra è divenuta inevitabile dobbiamo evitare un'escalation militare ma questo non lo diciamo solo noi siamo in buonissima compagnia quindi io non comprendo perché da parte di alcuni avversari politici non si voglia comprendere questo sforzo da parte del Movimento 5 Stelle mi sembra assurdo che siamo gli unici non gli unici totalmente non siamo totalmente isolati ma siamo il più grande partito che sostiene questa posizione sto leggendo dall'intervista l'altra intervista che vi avevo citato questa mattina del segretario del Partito Democratico Letta e alla domanda che gli viene fatta da Roberto Gressi che dice un riavvicinamento fra Conte e Salvini c'è confido fermamente che Conte non persegua questa prospettiva perché comunque evidentemente viene letta una certa sovrapponibilità diciamo così fra le vostre posizioni e le posizioni della Lega in materia anche di invio di armi di richiesta di pace con una indeterminatezza che evidentemente no lascia qualche margine di ambiguità mi faccia capire se una parte politica sostiene che non c'è non c'è bisogno di un dibattito allora è autonoma e sostiene il governo senza se senza ma se una forza politica invece pone un tema allora vuole uscire dal governo oppure si lascia andare all'abbraccio mortale con Salvini mi sembra che questo sia abbastanza creativo e poi forse è Salvini che sta venendo un po' sulle nostre posizioni però queste sono domande che bisognerebbe fare a lui non a noi Onorevole Baldino volevo però chiedere una cosa al volo secondo lei se si dovesse diciamo così fermare la guerra bisognerebbe toglierle le sanzioni noi stavamo ancora sanzionando la Russia ma come ha detto Bekis questo è un esercizio molto remoto e surreale la guerra sicuramente non si concluderà in breve termine e anche un eventuale progetto di ricomposizione della controversia sarà molto lungo verosimilmente quindi non si può parlare oggi di ritirare le sanzioni è assolutamente surreale allora la a fuori